Siamo insieme a Paolo Naso per un commento sulla giornata storica di oggi. Papa Francesco è venuto nel Tempio Valdese di Torino e ha incontrato le chiese valdesi e metodiste. Storica senz'altro, però vorrei dire anche significativa, nel senso che la storia talvolta vive di eventi, non credo che questo sia stato un evento fine a se stesso. Abbiamo sentito dei discorsi molto pragmatici, dei discorsi che avevano una visione ma che pure avevano il coraggio di mettere sul tappeto non soltanto ciò che unisce, ciò che è bello dirsi, ma anche ciò che è scomodo dirsi. Da questo punto di vista io credo una giornata utile e necessaria, vorrei dire, a riaprire una fase ecumenica o aprirla in modo molto rinnovato rispetto al passato, con tempi accelerati. Il moderatore Bernardini ha parlato di due temi, il tema dell'ospitalità eucaristica o comunque dello scandalo della divisione attorno alla Mesa del Signore. L'altro tema, che cosa sono, cos'è il mondo evangelico per il mondo cattolico, soltanto comunità ecclesiali o davvero parte integrante della Chiesa di Cristo. Ecco, il Papa ha risposto a questi temi, ovviamente in modo interlocutorio, ma assupendo questa agenda e poi ha scolpito queste due parole dette con grande commozione quando ha chiesto perdono. Ecco, io credo che per noi valdesi sentire queste parole in questo tempio, pensando alle nostre storie, pensando alle difficoltà, io parlo per me dei miei nonni, quindi non voglio andare alle persecuzioni del Cinquecento o del Settecento, parlo soltanto delle storie della mia famiglia, una famiglia siciliana che confessava la fede valdese negli anni 20-30 nel cuore della Sicilia, non era facile. Ecco, sentire la parola perdono mi ha fatto ripensare a queste persone, a mia zia che camminava vestita da diaconessa e le tiravano addosso le pietre o le mettevano nella stoppa, nel buco della serratura. Ecco, questo mondo fatto di grandi e piccole persecuzioni oggi crolla di fronte a una richiesta di perdono, quindi una giornata che non è soltanto storica, ma una giornata che ha il significato di un cammino nuovo che inizia. Infatti proprio a lei vogliamo chiedere queste cose, lei che si è occupato e ha speso una vita per l'ecumenismo all'interno della Chiesa Valdese. L'incontro di oggi, e Papa Francesco l'ha detto, può essere l'inizio di un nuovo percorso assieme. Che prospettive si aprono davanti? Allora, sono abbastanza vecchio, per così dire, d'aver visto diverse fasi ecumeniche e allora anche in altri momenti abbiamo vissuto grandi momenti di speranza e di apertura, i quali però molto spesso poi seguivano dei momenti invece di chiusura, vorrei dire un richiamo ai recenti tradizionali, quindi l'auspicio è davvero che quello che si è detto oggi venga in qualche modo codificato, cioè che non sia il bellissimo discorso di un Papa ma diventi il sentire della Chiesa Cattolica, che diventi il sentire dei fratelli, delle sorelle cattolici che incontriamo appena usciamo di qui. E quindi davvero una nuova qualità dell'ecumenismo, che non è soltanto un fatto di vertice, ma che poi arriva al cuore della gente, al cuore della gente che nello specifico delle parrocchie, delle realtà locali, sa riconoscersi come fratelli e sorelle. Qui c'è un passo nuovo ed è un cammino tutto da esplorare. Ultima domanda, l'appuntamento adesso è al 2017, il moderatore Bernardini ha invitato ufficialmente Papa Francesco. Il 2017 è un anno simbolico, 500 anni dalla fissione delle 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg e quindi da quello sconquasso politico, culturale, teologico che ha cambiato l'Europa. Che cosa questo sia per i protestanti è chiaro, è l'inizio della loro storia e per i valdesi è l'affinamento della loro identità teologica. I valdesi, come è noto, preesistevano alla riforma protestante e quindi con la riforma protestante si affinano teologicamente. E per la Chiesa Cattolica cos'è lo scisma? O invece è un richiamo anche a una radice evangelica, biblica della Chiesa? Questa è la grande avventurosa speranza che noi cercheremo di verificare nei prossimi mesi, cioè capire se davvero sarà possibile un pensiero ecumenico sul senso della celebrazione della riforma protestante. Le parole di oggi mi sono sembrate molto incoraggianti, ma quello che mi sembra incoraggiante è la convergenza che io proprio ho rilevato, vuole dire, plasticamente nei due discorsi, cioè tutte e due alla fine parlavano di evangelizzazione. Cioè cosa significa essere evangelici e cosa significa essere cattolici oggi? Dire la parola di Gesù in un mondo secolarizzato. Questa è la missione della Chiesa, viverla insieme non è soltanto un'opzione, vuole dire che è il cuore stesso della dimensione dell'essere cristiani.